Buongiorno, il Vangelo che ascoltiamo oggi è preso ancora dal capitolo 11 di Luca, i versetti dal 29 al 32. Gesù ha un giudizio piuttosto severo verso la generazione in cui si trova a vivere la sua vita terrena, proprio mentre le folle si accalcano e quindi proprio mentre lo riconoscono per la sua fama di taumaturgo, gli riconoscono la capacità di compiere miracoli, prodigi e di dire parole autorevoli. Eppure lui non risparmia quella parola severa proprio verso le folle e non si lascia compiacere da un riconoscimento puramente terreno. È una generazione malvagia, secondo Gesù, quella che lo sta ascoltando. Una parola dura che potrebbe forse valere anche per la nostra generazione o forse per ogni generazione della storia, quando cade nella tentazione, nella pretesa, di chiedere un segno. Un segno di che cosa? Gesù non corrisponde alle attese di quella generazione che probabilmente sta aspettando il segno di una presenza divina sulla terra e in lui vorrebbe riconoscere un Dio miracoloso, prodigioso appunto, che risolve i problemi di ogni giorno in maniera quasi magica. Anche noi abbiamo le nostre attese, certamente aspettiamo dei segni, forse un po' meno trascendenti, forse più legati al nostro benessere, forse il Dio che vorremmo si facesse presente potrebbe avere in nome di altissimi valori come la pace, la giustizia, l'amore. E vogliamo un segno che si possa ancora credere nella pace anche nei tempi terribili che stiamo vivendo, tempi in cui verrebbe proprio da credere che siamo una generazione malvagia. Ma Gesù nega questo segno e forse noi dobbiamo imparare a riconoscere che in realtà il segno allora e oggi è comunque un altro rispetto a quello che potremmo immaginare. È il segno della croce, il segno di Giona che sta tre giorni nella ventre del pesce e che come Gesù sta tre giorni nascosto perché venga poi alla vita anche il Signore sta tre giorni nel ventre della terra. È dunque il segno che può garantire la certezza di una presenza di Dio è quello della morte e risurrezione del suo figlio. È il segno di un'offerta della vita, è il segno di un amore donato che passa anche attraverso la sofferenza, la rinuncia, il sacrificio. A noi potrebbe interessare più che la presenza di Dio appunto una vita nella pace e nella giustizia. Ebbene, anche in questo caso il segno da cercare è quello della croce. Cioè c'è bisogno di qualcuno che scelga di passare attraverso l'offerta di sé, di cambiare la logica, di rompere la catena di violenza, di vendetta e di odio donando la propria vita per l'altro, passando attraverso il ventre della terra disposto a perdere se stesso per trovare una pienezza che viene dopo quando l'altro possa sentirsi e scoprirsi amato contro ogni altra logica di questo mondo. Certamente è dura pensare per i popoli della terra che entri nelle dinamiche e nelle relazioni così violente questa logica ma almeno potessimo cominciare noi per primi a non pretendere segni magici ma piuttosto a diventare noi segni credibili di una pace, di una giustizia, di una presenza di Dio che passa attraverso l'offerta di sé per il bene dei fratelli. Saremo allora noi oggi a continuare a rendere presente il figlio di Dio sulla terra. Buona giornata.